Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Larker, faccio l'urologo all'ospedale San Raffaele, dove dopo il corso di studi in medicina ho iniziato il mio percorso professionale con la scuola di specializzazione in urologia. La nostra scuola di specializzazione è caratterizzata da diversi periodi all'estero dove vengono approfonditi degli aspetti specifici del nostro lavoro. Per esempio nel 2014 io ho passato un anno di fellowship di ricerca a Montreal dedicata alla ricerca clinica, che vuol dire in sostanza analizzare come sono andati i pazienti che sono stati per esempio operati con una tecnica piuttosto che un'altra o trattati con dei medicinali di un tipo piuttosto che di un altro. Dopo essere ritornato a Milano sono ripartito per il Belgio, dove ad Alst si trova un ospedale che è specializzato in chirurgia roboassistita e che è uno dei centri che sono stati pionieri in Europa di questa tecnica chirurgica. Lì mi sono focalizzato sugli interventi chirurgici per il tumore del rene e su come organizzare la formazione e l'apprendimento di questo tipo di tecniche chirurgiche. Dopo essere ritornato a Milano mi è stato affidato il compito di occuparmi di un progetto di ricerca dedicato a un tipo molto particolare di tumore del rene che ha una causa genetica e viene chiamato malattia di Vonippe Lindau. Questo progetto si basa sulla assistenza ai pazienti, agli ammalati che hanno questa sindrome e prevede anche un'intensa attività di ricerca che sfrutta sostanzialmente la possibilità di analizzare qui in istituto cellule, tessuti, dati provenienti dai pazienti ammalati trattati qui da noi in ospedale. Per questo tipo di attività è fondamentale il vostro sostegno alla nostra ricerca.